papà sì il mio orsetto è triste gli ho fatto un disegno sul pancino e adesso non va più via vediamo un po si è imbrattato gli hai messo dell'acqua certo come ha fatto la mamma quando gli ha macchiato il divano senza volere non ti ricordi ha messo un po d'acqua sulla macchia e abbiamo contato uno due tre voilà la macchia è scomparsa ed era come nuovo acqua clean è una tecnologia avanzata che consente di proteggere i tessuti sui quali viene applicato acqua clean crea una barriera tale che nemmeno l'inchiostro di una penna resiste a una semplice leggera pulizia con acqua il vantaggio di acqua clean rispetto ad altri sistemi di protezione è che invece di creare una pellicola superficiale la protezione acqua clean fa parte del tessuto ricoprendo fibra su fibra in modo invisibile e traspirante il primo vantaggio evidente è la sua grande facilità di pulizia senza dover passare dalla lavatrice anche tu hai acqua clean idden tai o Grazie a tutti